Entrandoti in uno spot, eh? Una pubblicità locale, in cui tu sei WM e io sarò WF. Oggi faccio solo le voci femminili, io mi occupo solo di quelle. Sei pronto? Partiamo con una sorta di telecronaca pubblicitaria. Vai! Pochi secondi alla partenza di quella che sarà una gara avvincente. Papa Giorgio, mamma Lisa e il piccolo Luca sono già in posizione. Pronti a tutto pur di conquistare la tanto ambita pole position. Ci siamo! 3, 2, 1, via! Sentiti sempre in prima linea con pole position. Pole position, calzatura e pelletteria delle migliori griff per uomo, donna e i più piccoli. Pole position a pellaro, piedi sempre in prima linea. È stato bravissimo su tutto, peccato che il posto fosse pellaro, c'è anche l'accento sulla E. Lui si è pure fermato per leggerlo e se n'è strafregato. Che è un mirando classico, stai tranquillo. Adesso Andrea ci prepara un disco. Non so se sarà mai un disco che ti piace, ma non importa. Alla radio abbiamo capito che non ci danno mai la musica che ci piace ormai. Che cosa ci proponi, Andrea? Paolo Rutini. Paolo Rutini, bravo. Il nome è facile, Paolo Rutini, però il titolo non l'ho capito. Aspettati, lo ripetiamo il titolo.